A Cammarate San Giovanni Gemini i docenti proclamano lo sciopero degli scrutini contro la riforma della scuola. L'intervista all'ex provveditore, adesso direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Agrigento, Raffaele Zarbo, Nario Piparò. La buona scuola va avanti mentre i docenti si fermano. La riforma Renzi-Giannini è in fase di perfezionamento, dopodiché senza eccessivi intoppi dovrebbe tramutarsi in legge. Intanto i docenti degli istituti di scuola secondaria di San Giovanni Gemini e Cammarata si fermano. Le operazioni di scrutinio, di fatto, verranno stoppate. Tutte le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero in forma unitaria in relazione al DDL denominato appunto la buona scuola. Il punto riguarda soprattutto la fase di emendamento. La revisione camerale ha apportato alcune modifiche e nella seconda lettura ne sembrano previste delle altre. I punti cardinali dovrebbero essere tre. L'ampliamento dei poteri dei capi d'istituto, considerato eccessivo, che dovrebbe essere sottoposto a delle limitazioni. In secondo luogo la valutazione dei neoimmessi in ruolo e dei docenti meritevoli. A valutare gli insegnanti dopo l'anno di prova saranno gli stessi docenti interni, insieme al capo d'istituto. Poi il piano di assunzione di centomila nuovi lavoratori, con la definizione degli albi territoriali di collocamento e le modalità di chiamata diretta dei presidi. Insomma, la protesta agrigentina giunge da San Giovanni Gemini e cammarata in testa, con il rischio di un sostanziale rallentamento delle operazioni di fine anno. Abbiamo contattato telefonicamente il provveditore agli studi di Agrigento, Raffaele Zarbo, che ci ha risposto così. Gli scrutini sono stati programmati, come tutti sanno, per la giornata del 10 e dell'11. A mia conoscenza gli scrutini per un buon 70% delle scuole regentine sono state già fatte, tranne per alcune situazioni per le quali i dirigenti scolastici hanno dovuto riprogrammare entro le 24 ore il completamento degli stessi. Voglio dire, quelli del 10 sono stati programmati per la giornata di oggi, perché devono passare un tempo utile, e quelli della giornata successiva sono stati programmati per sabato. Quindi presumo che entro sabato saranno completate. Questa è dalla informazione che io ho. Ovviamente è ovvio che lunedì prossimo, lunedì 15, per esempio le commissioni per gli esami di Stato di maturità, come si sa, si insedieranno e si insediano perché tutte le operazioni saranno consumate, si saranno esaurite. Non conosco la situazione di cammarata, però, ripeto, queste sono le informazioni che ho avendo sentito alcuni capi d'istituto, non ho notizie dagli stessi di grande difficoltà, che cosa posso dire, nel senso che so che tutti concluderanno entro la giornata di sabato.